A prendere facile si può, se rispetti la tua mente. Parliamo di i verbi. Il verbo essere e avere. I cavalieri dei verbi. Modo indicativo. Vuoi imparare a dire i verbi? Non ti devi affaticare e ripetili. Ogni giorno senza troppo sblabbabbare. Io direi di cominciare con una bella filastrocca che presenta a tiritera i due verbi della sera. Tu ripeti la memoria e la base del sapere se tu vuoi coniugare il verbo essere e l'avere. Filastrocca dell'ausiliare. Noi siamo gli ausiliari. Siamo sempre pronti a tutto. Aiutiamo gli altri verbi a formare il tempo giusto. Ogni verbo quando è solo si sa bene coniugare. Se composto lui da solo non sa bene cosa fare. Ha bisogno di un aiuto per poter farsi composto. Si trasforma in participio e davanti lascia un posto. Qui si mette l'ausiliare che si mette a coniugare. Ho mangiato la minestra, ho bevuto una gazzosa, sono andato nello spazio, sono tornato con la sposa. Gli ausiliari non sono tanti, ma di due conosci il nome. Essere e avere sono importanti. Con essi coniughi tutti quanti. Coniughiamo il verbo essere nel modo indicativo. Ma che cos'è il modo indicativo? I verbi all'indicativo indicano fatti, attività, avvenimenti, azioni reali, vere. Che stai facendo? Presente. Mangio. Che hai fatto nel passato? Ho mangiato. O che farai nel futuro? Domani andrò a scuola. Quindi ricorda, l'indicativo indica sempre cose vere, reali, che capitano veramente, o sono accadute o che accadranno. Bene, per capire come coniugare, devi anche ricordare che i verbi hanno tempi semplici e tempi composti. Ma che vuol dire? Vediamo un attimo con il modo indicativo. I tempi semplici sono formati da un solo verbo. uno, io sono, io mangio, io corro, io leggo, io canto, io studio, io dormo, io ho. Ecco, questi per esempio i tempi semplici sono presente, imperfetto, passato, remoto e futuro semplice. Poi invece i tempi composti sono formati da due verbi. Ricorda, da due verbi, esempio, io sono stato, io ho mangiato, io ho corso, io ho letto, io ho cantato, io ho studiato, io ho dormito, io ho avuto. Sono formati da due verbi, il primo è l'ausiliare, il secondo è il participio passato. Questo è importante che lo ricordi. Semplici, uno. Composti, due. Quindi al presente corrisponde il passato prossimo, all'imperfetto, il trapassato prossimo, al passato remoto, al trapassato remoto, al futuro semplice, il futuro alteriore. Decliniamo l'indicativo del verbo essere. Vedi, devi ricordare questa figura associata al presente. Io suono, io sono, io suono, io sono, tu sei, egli è, noi siamo, voi siete, essi sono. Il tempo composto del presente è il passato prossimo. Io sono stato, tu sei stato, egli è stato, noi siamo stati, voi siete stati, essi sono stati. Bene, sempre l'indicativo del verbo essere. Tempo semplice, imperfetto. Vediamo la figura che devi associare. L'imperfetto ha questo bimbo che è un vecchio Dio, Eros, Eros, Dio dell'amore, ed è io ero, tu eri, egli era, noi eravamo, voi eravate, essi erano. Il tempo composto dell'imperfetto è il trapassato prossimo. Io ero stato, tu eri stato, egli eri stato, noi eravamo stati, voi eravate stati, essi erano stati. Bene, sempre l'indicativo del verbo essere, il passato remoto. L'immagine che associamo a questo tempo, passato remoto, è questo verbo in francese, FUIR, che significa fuggire. Noi diciamo soltanto FUI e ce lo ricordiamo. Io fui, tu fosti, egli fu, noi fummo, voi foste, essi furono. Il tempo composto è il trapassato prossimo. Io fui stato, tu fosti stato, egli fu stato, noi fummo stati, voi foste stati, essi furono stati. Sempre indicativo presente del verbo essere, il futuro semplice. E per ricordarci il futuro, vediamo questo bambino che dice Io sarò forte, io sarò, tu sarai, egli sarà, noi saremo, voi sarete, essi saranno. Il tempo composto è futuro anteriore, io sarò stato, tu sarai stato, egli sarà stato, noi saremo stati, voi sarete stati, essi saranno stati. Adesso passiamo all'indicativo del verbo avere, presente. Vediamo l'immagine per ricordarlo. Questo bimbo che dice Io ho una mela, io ho, tu hai, egli ha. Noi abbiamo, voi avete, essi hanno. Il tempo composto del presente si chiama passato prossimo. Io ho avuto, tu hai avuto, egli ha avuto. Noi abbiamo avuto, voi avete avuto, essi hanno avuto. Sempre indicativo del verbo avere, adesso parliamo dell'imperfetto. Vediamo la figura e questo bimbo dice Io avevo un dente, avevo un dente, io avevo, tu avevi, egli aveva, noi avevamo, voi avevate, essi avevano. Il tempo composto dell'imperfetto è il trapassato prossimo. Io avevo avuto, tu avevi avuto, egli aveva avuto, noi avevamo avuto, voi avevate avuto, essi avevano avuto. sempre indicativo del verbo avere, il passato remoto. Vediamo l'immagine Gioco a Rebbi. Alla romana si dice Gioco a Rebbi e anziché la parola giusta è Io ebbi, ebbi, rebbi, ebbi, io ebbi, tu avesti, egli ebbe, noi avemmo, voi aveste, essi ebbero. Il tempo composto del passato remoto è il trapassato remoto. Io ebbi avuto, tu avesti avuto, egli ebbi avuto, noi avemmo avuto, voi aveste avuto, essi ebbero avuto. E adesso, sempre dell'indicativo del verbo avere, vediamo il futuro. L'immagine associata è questa di una mamma che aspetta un bimbo e il bimbo dice Avrò un fratellino. Io avrò, tu avrai, egli avrà, noi avremo, voi avrete e si avranno. Il tempo composto del futuro semplice è il futuro anteriore. Io avrò avuto, tu avrei avuto, egli avrà avuto, noi avremo avuto, voi avrete avuto, essi avranno avuto. Bene, guarda il prossimo video sui verbi dei maghi. I verbi dei maghi sono il congiuntivo e condizionale, i verbi che servono per fantasticare e per minacciare. Se fossi stato bravo, ti darei un barattolo di Nutella.